No, non posso più fare gli sketch con Bobo perché ho il profilo intasato dalla faccia di Bobo. Appena dico facendo sketch vuole farlo lui. Basta, adesso voglio fare con i ragazzi, con te. Oh, e dai, basta con il suo sketch. Madonna mia. Perché dobbiamo fare? Quello del lunedì. Quello del lunedì? Diggelo tu. Diggelo tu, va bene, dai, dai, per favore. Non siamo più. Ma che poi non ce ne vediamo. Sì, andiamo, io me ne vado. Ragazzi, venite a fare lo sketch del lunedì. Ragazzi, ma dove sono i ragazzi? Ma dove sono tutti? Ragazzi, ma dove sono andati? Don Emelia, Don Emelia, ascoltami, facciamo lo sketch del lunedì allora? Forse questo lunedì non lo facciamo perché al mio figlio a Rettro ci sono dei problemi. Mi dispiace, questo lunedì non lo facciamo. No, perché mi hanno avuto un'idea che poteva essere carina, ma... Alecchione! Ma sei scemo. Ha una bellissima idea, stupido. Che piace niente. E' stato un bel arfordore. Non è una bella, ma deve essere... E' solo un'idea che ti fa di tanto solipi... Grazie a tutti.